Questo lo mettiamo sicuro Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Grandissimi e benessi che avete letto dal titolo Oggi sfiderò un mio amico calistenico davvero più grosso di me Allora oggi sono insieme a Cioba, presento di voi Ciao ragazzi, io faccio calistenics Quanti anni hai? In realtà faccio calistenics ma zavorrato 24 anni e mi alleno da circa 30 Ciao ragazzi, è uguale a capire Guardatelo qua sotto nei commenti, facciamole vedere anche il tatuaggio Abbiamo scoperto di appartenere alla stessa gang Qua sotto nei commenti Ci sta, grandissimo Direi di cominciare questa sfida Ma prima quanto pesi? 80 80, sembri che pesi 100 kg Direi di cominciare Incominciamo con la prima sfida Sarà massimale di muscle up in 2 minuti Dimmi, terrai il conto, dammi il via, sono pronto 3, 2, 1, go 1, 2, 3, 4, minimo 5 voglia Spingi bene Dai, cattivi, su Dai, muoviti Cos'è sta roba? Dai, quanto sono? Tempo? Ok Ok, ok Tempo, tempo, tempo 32 secondi 32 secondi, ok, buono Quanto sono? 8 8, 8, buono Ok, dai, su Cattivi Carico Ma le faccio io 8, bene 1 Dopo gli 8 diventa difficile Dai Su 9 9 Eh, buono, questo è solo dopo a buono 10, no, no 1 minuto adesso Su 7 No, dai Devo riposare Ok, quanto sono? 1 minuto e 5 No, ripetizioni 10 10 Allora, devo dire che io lo faccio, cioè Non è il mio forte Però Ci provo Dai, non ti preoccupare Ok, ok, ok Vai uomo Tempo, tempo, tempo Grandissimo Tempo? 1 e 20 Ok, dai Su Gattivi Dai Quanti? 11 Buono 11 11 Dai 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 Prendi 10 secondi, aspetta Chiato 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 praticamente Non ne ho Mani Quanto tempo? Siamo a 1 e 40 1 e 40 Dai Cattivo Su Vai Tira cazzo Su Ok, dai Infata Va bene, va bene, va bene 5 4 Dai Ancora uno ce l'ha 2 1 Prima sfida Numero rap Quanti ne ho fatti? 13 o 14 13 o 14 Nel caso ragazzi non ho pesciato Abbiamo il video qua sotto nei commenti È il turno di Ciova Vai Al suo via, parti Quando vuoi Vai, cattivo 3 2 1 1 Vai Vai Ok 1 Buono Si Sta volando 2 Superman Buono Leggero 3 Dai dai ce l'hai ce l'hai 4 Ok Dai 5 Su Cattivo Dai Tira 6 Leggero come l'aria Dai 7 Tuo 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 Punito Dai 7 Riposa 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 No, il fatto è che dopo i primi 7 non ce l'avevo Comunque dai, non perdere tempo, hai 2 minuti Quando vuoi Quando vuoi riparo 30 secondi adesso Sei a 30 secondi Sì, vai 30 secondi 8 rep Sì, sì 30 con calma Proffa Non mi li ha Non lo trovo No, no, no Dai, più nevi Quando vuoi Non ridere Dai, su, comincia Cattivo Su Dai, 6, 8 9 Buono Su 10 Guardalo Ti ricevi di petto pieni di sangue Su 10, 10 Quando vuoi Quando vuoi Adesso li sento Ok 11 Quanto è? Un minuto Ok 11 è ancora un minuto Quando vuoi Quando vuoi riprendi fiato Dai, dai, dai Su Ok Su 12 12 Tu 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 Ok C'era Quando vuoi Quando vuoi Sto andando bene Un altro paio per battere Mi ci dai Quando vuoi Quando vuoi Cattivo Ora guarda il bumping C'è, c'è Dai, quando vuoi Su Dai Ok Pulito Su Tu Tu Ok 13 Dai, quando vuoi Quando vuoi Quando vuoi E credo che con questa Siamo pari Ok Dai, dai, dai Recupera 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 Quando vuoi Hai 20 secondi Due di fila Sono tu 20 secondi Dai, cattivo Su Guardalo lì Su Dai Uno Buono Buono, buono Buono, buono Un altro Per battermi Ancora uno Dai, su Su, su, su Ancora uno Ancora uno Uno E mi hai battuto Su Tu, tu Dai, dai Cattivo Su Quanto tempo? Tempo, tempo Finito Ok, buono Nei fatti credo 13 o 14 Comunque anch'io sono lì Più o meno Prima sfida andata Nel caso Lasciamo decidere Ai nostri ragazzi Qua sotto nei commenti Siamo pronti Per la seconda sfiga Allora Sfiga Sì Uomola Ok, dai, bene Siamo pronti Per la seconda sfida Si tratta Degli Straight Bar Dips Sempre Due minuti Ok, salgo su Ok, dammi il tempo 3 2 1 Vai Vai De Ma è uomo Sì Leggero 3 Spingi questa braccia Sì, sì, sì Dai Dai, non devi sentirlo Numero rap 10 adesso Ok Dai Dai, su Quanto sono 15 Dai uomo Dai 20 secondi Siamo a metà Dai Dai Spingi Dai, su Dai, dai, dai È tutto nella testa uomo Dai Non fa male Spingi Ok, tempo 40 adesso Concentrato, concentrato Dai Numero rap 20 Sono morto 20 Bella tosta Tempo, tempo Un minuto ci sono? 50 secondi 50 secondi Ok Buono Dai Riparto Spingi Spingi Dai, su 25 Tempo Tempo, tempo 1,5 1,5 1,5 è buono Ok, dai Ancora Dai uomo Spingi Più difficile Più difficile Che male Spingi 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 Tranquillo 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 1,20 1,20 Ok, dai Su Ancora 1,2 Non mollare Non mollare 33 Dai Numero rap 33 Tempo 1,40 adesso Muoviti Non mollare Vai Muoviti Non ti fermare Non ti fermare Dai Non ti fermare Spingi Dai uomo Spingi Buono 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 3 2 1 Dai Ok Quando sei arrivato? 30 Abbiamo perso il conto Come sempre Lascio a voi qua sotto nei commenti Voglio vedere le aesthetics di questi deep Su Pulite Salvi su Capitano America Su Ok, buono Dai Capitano America Ok, dai 3 2 1 Vai 2 3 4 5 6 7 8 9 Spingi Inizio Dai, dai Cattivo Su 12 Concentrato Dai, su Non morire 14 15 Su 16 17 17 Buono 20 secondi adesso Quando vuoi Riposati Quando vuoi Su 18 19 20 21 22 22 Forse ne ho già perso qualcuno Vabbè, buono Dai, dai Buono Quando vuoi Quando vuoi Prendi fiato Su, stai andando bene Ok 25 26 27 Credo 28 29 30 30 Buono Buono Dai, dai Quando vuoi Senti pure Riposati E quindi fiato Quando sei pronto parti Dai, su Ti avviso al minuto Credo di aver già perso il punteggio Lo dico qua Riparto dai 27 Più, meno O dai 30 Dai, su Quanti ne hai? Dai Su E qui ci vanno le mani Riparto dai 30 Dai Ok 31 32 33 Scendi bene 34 Dai Dai, su 35 Guarda le spalle che si ruotano Su Su, su Buono Buono Guarda lì Pumping, bro Buono Quando vuoi Perché mai sei 35 già Nei altre Altre tre mi batti Dai, su Ok 36 37 38 Buono 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 Ok Dai, fiato Fiato Recupera fiato Sto andando veramente bene Ok Quando vuoi 27 20 secondi Quando vuoi Su Vai 7 Dai, doccia Cattivo Su, su, su Dai, non ci pensare Su Chi se frega delle mani Ok Massimo cadi di testa 40 41 Altre 4 Dai Ok, tempo, tempo, tempo 10 9 Dai, uomo, l'ultimo Dai Su 5 4 Dai, dai, uomo, l'ultimo Buono, buono, buono Buono Davvero Niente male Ragazzi, come sempre Abbiamo perso un attimo il numero di ripetizioni Perché eravamo troppo concentrati sull'esercizio Nel caso lasciateci qua sotto nei commenti Siamo pronti ragazzi per la terza sfida In questo caso Finger push up Quindi push up sulle dita Maggior numero di rap in un minuto Dammi tu il via Ah, un minuto Ok, vai 3, 2, 1 Go for it, man Uno Cinque Dieci Scendi bene Scendi Dai, su Dai, dai, dai 14 Ah, le dita Le dita Va bene, va bene Su, quanto sono? 16 Ok, tempo, tempo, tempo 20 secondi Ok, dai Non fa male Non fa male Non pensare ad ore Spingi e basta Spingi Spingi Dai 5 19 20 Ok, 20 35 secondi Dai, dai Si stanno per spezzare praticamente Ah, che male Tempo, tempo 38 adesso Dai, dai, dai Su Ok Dai Su 45 Dai, dai 5 25 Ah, 25 Tempo Dieci secondi Arriva a 30 Arriva a 30 Dai Ci provo, eh Non lo so 6 Ah, che male 5 Dai 5 5 5 5 5 5 Buona Buona Un minuto Quante? Un minuto 26 Vai bene Ora tocca Ora tocca A te Vai Cattivo 3 2 1 Vai Dai, uomo veloce 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 Buono 12 12 Cattivo Dite com'è, ti fanno male? Ti senti? Da un fastidio Senti vero? Porca tra Gira un pochino una mano Sembra più facile? Sì? Hai un minuto, quando vuoi e ricomincia 6 e 12 Vai Tempo 12 22 secondi 14 15 16 17 18 19 20 20 Ok, ancora 5 per battermi Cioè stai per battermi 5 siamo pari 30 secondi adesso 6, 6, buono Dai Cattivo, eh Quando vuoi riparti Mi fanno male, vero? Dai, su, su, non ci pensare Non ci pensare, non ci pensare Dai, su Ok, 20 21 22 23 24 25 25 25 Dai, non ci pensare, non ci pensare Dopo le recuperi Dopo le recuperi 9 8 Cattivo 7 Ok, 26 27 27 Buono, buono, buono 27 E mi ha battuto Davvero Ottima sfida Sfida per oggi ragazzi Terminata Ci siamo letteralmente distrutti Penso che mi hai stracciato Ma alla grande Però ragazzi Per sicurezza Mi raccomando Contate tutte le rap Precisamente qua sotto nei commenti Vi lascio come sempre Instagram di Choba Andatelo a seguire Perché è veramente gigante Ragazzi Guardatelo qua Cioè assomiglia No al Captain America Poi facciamoli vedere un attimo Il tatuaggio Avvicinate un attimo Vediamo se Qualcuno di commento Oppure scrivetemi Secondo voi Cosa ci siamo tatuati Si vede? Ok bene Noi ragazzi Come sempre Ci vediamo per forza In un prossimo video Grandissimo Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti